L'ASMON presenta Rosanna Carteri in quelle trine morbide dalla Manon Lescaux Per venti ed infacate granchi, correnti un'altra cosa L'ASMON presenta Rosanna Carteri in quelle trine morbide dalla Manon Lescaux Come un sogno mentile di pate Indimenticabili armonie, indimenticabili gli alimenti al plasma, gli unici contenenti il... I gustosi biscotti sono indispensabili nello svezzamento e nella dentizione e assicurano in ogni età vivacità, intelligenza e salute La bifetta al plasma, energetica e digeribilissima, è un alimento fragrante e leggero, ideale per tutti Dall'infanzia alla vecchiaia alimenti al plasma, una marca antica, un'industria all'avanguardia della moderna dietetica L'ASMON Dolce la sera ma lunga era via, a farla insieme men lunga staria Sono fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora Gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guardano ancora Quando Rosa scende dal villaggio, sola sola e messa in volto Io la seguo ma non ho il coraggio di pregarla a darmi ascolto Dolce la sera ma lunga era via, a farla insieme men lunga staria Sono fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora Gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guardano ancora Premium Saiva non temono l'umidità, sono ben protetti All'esterno da un foglio di alluminio plastificato E dall'interno in tanti pacchetti di cellophane sigillati Per questo restano sempre croccanti, freschi, come appena usciti dal forno Se sono così fragranti, il merito è anche della confezione Crackers Premium, dalla Saiva, il vostro grande fornaio Pallina ricorda per vetri e cristalli, vetril, il puliziotto di casa E presenta le conquiste di Pallina Ciao ciao Oh gente, svegliandomi un mattino di far la bella hostess Mi prese il bel pallino e quindi con in testa la bustina Ciao ciao La vostra Ciao ciao Pallina Ciao ciao Sul grande jet graziosa e sorridente Ciao ciao Un lì finalmente decollò Pallina volava per le avai e un hostess come quella non s'era vista mai Ma giunti su Taiti sul più bello Ciao ciao Si blocca Ciao ciao Il carrello Ciao ciao E il grande jet così non può atterrare Ciao ciao Che pare pallina intervenì Settendo le belle avaiane chiamò Ognuna i suoi fiori sul campo gettò E il jet tranquillo e quieto sul morbido tappeto di Pelliflano Sono tante le conquiste per noi donne Ma quella più bella È lo splendore della nostra casa Con Solex che tutto bello fa Si, c'era Solex, splende subito Splende sempre La stendi e si autolivella La lucidi e subito si illumina E quando la ripassi di nuovo risplende Perché c'era Solex è impermeabile all'acqua Rifiuta lo sporco e non teme le striature Si, c'era Solex splende subito Splende sempre C'era Solex è in vendita anche nel formato gigante con 100 lire di sconto Questa è la storia della gatta cecova che lavorava lungo la Moscova Lungo la fredda e nera Moscova lavorava la gatta cecova Trasportava piaschette di vodka quando un topo furbastro apparì Miau C'è cova, c'è cova Qui gatta cecova Non fidarti dei topi promettono baci ma sono mendaci C'è cova, c'è cova Qui gatta cecova Non tirarti le rogne sono solo menzogne e peggio per te Dice il topo Bambina, mi piaci Si abbandona la gatta e i suoi baci Uno stroppo e il topaccio scompare La mia vogga La fiasca E dov'è? C'è cova, c'è cova E questa è la prova Che gli amori fugaci e i topi rapaci Sono tanto mendaci C'è cova, vergogna Quel topo non sogna L'ha rubato la fiasca Per lui quella vodka era l'unico amore Miau 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 Una grande novità perugina Don, cosacco del bin Don La caramella ha due gusti Un sapore nuovo Perché i gusti sono separati E lo vedete La caramella è a due colori Don Anche nei gusti tradizionali A 50 lire E da oggi Anche le famose caramelle rossana e doppia menta In confezione stick A cosa può servire Occhessina? Ve lo mostro con un esempio musicale Io mi domando Chissà perché non arriva? Ha già un'ora di ritardo E cominciamo lo stesso anche senza di lui Io so qual è la causa vera del suo ritardo Ah sì? Quale? È rimasto addormentato Ecco tutto Dice che è rimasto addormentato Secondo me la verità è un'altra È colpa di una donna Una donna? Ne sono sicuro Una donna? E intanto io lavoro per due Un, due, tre, quattro E intanto lui non arriva Hai ragione? Ehi sentite sentite Per me l'unico motivo del ritardo è la sua pigrizia Semplicemente non avrà avuto voglia di lavorare Fogliato La causa vera Quella veramente vera È mia moglie Quattro gemelli proprio stamattina Bisogna sempre risalire alla causa vera Anche nel caso del tuo persistente malessere Hai mai pensato da dove potrebbe venire? È dal profondo che spesso derivano mal di testa, inappetenza, nervosismo E allora euchessina Perché euchessina regola l'organismo Solo così puoi curare il tuo malessere Eliminandone le cause alla radice con euchessina Bastano due pastiglie di euchessina E se il tuo malessere deriva dal profondo Con euchessina se ne va